Un'agenda per lo sviluppo sostenibile del nostro territorio, da oggi al 2030, ma con uno sguardo anche al 2050. Un'agenda che ci aiuta a orientare strategie, politiche, progettualità, 21 missioni e 79 aree di intervento. È l'agenda per lo sviluppo sostenibile della città metropolitana di Torino e del suo territorio. Individua transizioni necessarie per il sistema produttivo e energetico e strategie per mitigare l'impatto dei cambiamenti climatici e la resilienza dei territori. Si occupa del benessere fisico e psicologico delle persone e di ridurre discriminazioni, diseguaglianze e illegalità. Sostiene la formazione e qualificazione professionale necessarie per la transizione davvero sostenibile dei nostri territori. Con l'agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile costruiamo insieme il cambiamento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.